ah 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 così discesi cerchio primario è tempo di duellare ti ho troppo rimandami l'invito va non mi va più grazie barbuziante mandami l'invito dai chiuso il gioco si eh eh e non si apre sì 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 bello tu Simo sai giocare? oh io ti chiederò una youtube ogni volta che sto per fare qualcosa o fai dei versi no ok io cercherò di sì vabbè no 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 Simone non mi accoglio questo deficiente che fa questi versi per tre ore parla normale Luca parla normale parla parla normale parla normale vengo al caso dove ti sparo in fronte se Vegeta ha lights e si fonde con Goku in Gogeta o in Vegito si prendono lights tutti e due o si curano da lights? sì aaaaa